Benvenuti a Matteo Giuliaci.it. Oggi sabato 4 agosto rovesce temporale diffuse sulle regioni alpine con sconfinamente anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Molto caldo invece su gran parte del centro nord, Puglia ed isole maggiori per la presenza dell'alta pressione nordafricana. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale. Vedete le nuvole che ricoprono gran parte delle regioni alpine e delle regioni di nord ovest per il passaggio di una debole perturbazione atlantica a nord delle Alpi. Che tempo allora farà oggi? Bello e soleggiato su quasi tutta l'Italia tranne la regione alpine, il Piemonte e Lombardia dove vi saranno rovesci temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane. Vediamo adesso le temperature massime previste. temperature massime intorno a 28-30 gradi su Piemonte e Liguria, 30-34 sul resto d'Italia ma con molti valori di 35-36 gradi su est Lombardia, Basso Veneto, Emilia Romagna, interno del centro Puglia, Siracusano e Campidano. Bene termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.